Stimolatori di testosterone. Non buttare i tuoi soldi nel cesso. L'integrazione sportiva, in generale, è vista come una risorsa in più alla quale attingere quando la pratica di uno sport è impegnativa e continuativa. In quest'ottica il ricorso a degli integratori specifici ha senso, purché, sia gli scopi che un atleta si prefigge, sia la scelta degli integratori che usa, valgano la pena in termini di risultati e, non ultimo, di spesa. Tralascio volutamente l'integrazione di vitamine e minerali, in quanto lo scopo di questo video ha come oggetto l'uso di integratori che vengono assunti dietro la spinta di massicce campagne pubblicitarie, piuttosto che da esigenze individuali e scientificamente informate. Solo a titolo d'esempio ricordo le ossessive pubblicità agli aminoacidi ramificati, i famosi BCA, oggi ritenuti quasi del tutto inutili. Eppure per molti decenni essi sono stati considerati come un must, qualcosa da tenere nella massima considerazione, e benché vengano ancora proposti e reclamizzati. Le ricerche scientifiche hanno relegato tali integratori nel sottoscala della scelta alla quale ricorrere. Per molto tempo l'integrazione sportiva, quella legale, qui tralasciamo gli steroidi, e medicinali di vario genere, si è rivolta agli aminoacidi e alle proteine. Più recentemente si assiste a una vasta produzione di integratori a base di piante officinali, alcune molto comuni, altre esotiche e poco note. Perché questo interesse ha questo genere di integrazione? L'interesse è dovuto al fatto che molte piante, vegetali o fundi contengono sostanze che la medicina popolare, soprattutto orientale, ha usato per centinaia, o addirittura migliaia di anni. Ma anche la medicina tradizionale ricorre sempre più spesso a piante definite medicinali. Da qui parte anche l'interesse, soprattutto ma non solo, economico di molte aziende di mettere a punto delle preparazioni in forma di capsule, compresse, polveri eccetera e proporli ai consumatori come forma di integrazione naturale, volendo sottintendere, in maniera non proprio corretta, che non fa male a chi ne fa uso proprio perché derivante dall'uso di prodotti che si trovano in natura. Tralasciamo l'aspetto dell'innoquità legata all'uso di tali integratori, per concentrarci sulla loro effettiva funzionalità quando inseriti nell'ambito dell'alimentazione sportiva. Sarebbe troppo lungo parlare dei molti integratori che sono sul mercato. Qui ci vogliamo concentrare su quelli che promettono di stimolare una produzione maggiore, di quella naturale, di testosterone. Il testosterone, infatti, è un ormone elettivamente maschile molto importante per la salute, anche delle donne, per il problema dell'invecchiamento e del sesso. Essendo un ormone steroideo, ha molta importanza anche nella pratica dello sport. Chiunque può fare una ricerca sul web sull'importanza del testosterone, in tale ricerca si imbatterà anche sulla peculiarità di questo ormone, che diminuisce con l'avanzare dell'età. Con la naturale, bisogna sottolineare naturale, diminuzione del testosterone si verificano cambiamenti non desiderabili nei maschi, calo della libido e dell'efficienza sessuale, tendenza alla perdita di massa muscolare e aumento di quella grassa ecc. La vostra ricerca personale vi dirà tutto quello che succede col testosterone in calo nei maschi. Ora, è del tutto ovvio che le case produttrici di integratori si tuffino, letteralmente, in questa problematica, proponendo prodotti che dovrebbero quantomeno riportare il testosterone a livelli fisiologici di un uomo sano, in rapporto alla sua età, ma possibilmente anche incrementarne la produzione con piante e amminoacidi specifici. E ci riescono? Riescono le case produttrici a fare davvero, integratori che stimolano una buona, o anche sufficiente, produzione di testosterone? Molti degli integratori venduti promettono i suddetti risultati. Gli ingredienti di una buona parte di questi sono a base di amminoacidi, minerali e vitamine. Funzionano? La risposta è sì, cioè, che per alcuni funzionano, ma solo perché generalmente l'alimentazione moderna è spesso carente di sostanze come il magnesio, lo zinco, le vitamine del gruppo B ecc. Quindi, ripristinando tali deficienze, si ristabiliscono determinate funzioni vitali, col risultato che si sta meglio, ed anche la naturale produzione di testosterone può tornare nella sua normalità. Fin qui niente di straordinario. Ma che possiamo dire a riguardo di certe piante, funghi ecc., fanno aumentare il testosterone, a livelli tali da provocare crescita di massa muscolare, sollevare carichi più pesanti in palestra, e fare più sesso a qualsiasi età? Ecco, siamo finalmente giunti al nocciolo di questa disamina. Alcune piante, stando alle relative ricerche scientifiche, stimolano in maniera significativa ma non massiccia. La produzione di testosterone, tralascio di proposito di menzionare quelle poco studiate, e sospette di recare danni all'organismo. Tali piante, quando assunte come integratori, nella misura e nelle specifiche degli esperimenti scientifici fatti, possono aumentare il testosterone, chi nell'ordine del 10%, chi del 15%, e chi un po' di più. Può bastare a chi vuole risperimentare i guizzi di una giovinezza, se non proprio ancora perduta, diciamo in declino? Bene, sono ottimista su questo, perché, considerando che dopo i 30-40 anni il testosterone cala del 2% anno, se tutto il resto va bene, per poi diminuire ancora di più dopo i 45 anni, ogni sostanza legale, e senza controindicazioni importanti, è la benvenuta. Se non altro si frena il suddetto calo fisiologico del testosterone, ed anche qualcosa di più. Posso fare dei nomi a questo proposito? Li faccio. La shwagandha di qualità, può fare aumentare il testosterone del 15%, lo zenzero può farlo aumentare del 15-17%. Pare che certi funghi come il Cordyceps sinensis facciano più o meno lo stesso. Vi consiglio però, di non fidarvi dei dati che pubblicano le case che producono questi integratori, ma di fare una ricerca su siti scientifici come PubMed, ed altri. Altre piante vengono pubblicizzate come stimolatori di testosterone, e che purtroppo non lo sono, la macandina, il tribunus terrestris, ecc. Il mercato di integratori è molto prolifero, non si stanca di proporre formulazioni che mettono in una compressa fino a 20 ingredienti, con presunti effetti anabolici. Qui entriamo in un campo che puzza il quanto di imbroglio. Molti integratori che sono ampiamente pubblicizzati come pro-testosterone sono semplicemente come acqua fresca. I motivi sono semplici da esporre e da comprendere. Si usano piante adattogene e pro-testosterone in quantità estremamente insufficienti perché possano sortire un minimo di effetto, insieme ad altre che si presume possano stimolare la produzione di testosterone, ma sulle quali la scienza dice pochissimo o nulla. Qualcuno a tal proposito dice che la somma dei vari ingredienti produce comunque il risultato voluto. Ma questo non è vero. Eppure, dando uno sguardo agli ingredienti di tutti gli integratori che sono sul mercato, ci si rende conto che sono uno la fotocopia dell'altro, se non nelle quantità, comunque basse, dei singoli ingredienti, sicuramente nel tipo di ingredienti stessi, maca, tribunus, arginina, citrullina, zinco, qualche tipo di vitamine. E, francamente, spendere dei soldi in questo modo è davvero sprecato. Abbiamo visto sopra che il massimo che possono fare alcuni integratori di testosterone è di aumentarlo del 15 o 20%, ma solo se le case produttrici hanno rispettato i criteri di produzione e li offrono in dosi che rispecchiano quelle delle ricerche scientifiche relative ai singoli prodotti. Se un integratore non rispetta i suddetti criteri, esso non sortisce alcun effetto, non importa con quali e quante altre sostanze è associato. Una fabbrica seria dovrebbe pubblicizzare non tanto le sostanze in sé, ma il suo integratore dicendo, per esempio, noi abbiamo fatto testare il nostro prodotto, così come lo vendiamo, a un ente esterno, che lo ha testato su X persone seguendo le procedure standard, ed abbiamo riscontrato un effettivo aumento di testosterone nella misura media di, i, sinon. Ma dubito che qualcuna lo farà mai, così, in ultima analisi tocca al consumatore fare una ricerca oculata, perché assuma solo integratori di utilità accertata, e non introduca nel suo corpo sostanze inutili e costose.